13 novembre 1868 muore il musicista pesarese Gioacchino Rossini, compositore prolifico, consacrato dalle opere Tancredi e L'italiana in Algeri, rappresentate a Venezia nel 1813. A soli 37 anni e all'apice del successo, si ritira dalle scene con un'ultima opera, il Guglielmo Tell, a cui seguiranno sporadici ritorni come quello del 1841 con lo Stabat Mater. Grazie per la visione!